Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su una nuova guida di Fortnite Cerca pezzi di puzzle sotto ai ponti oppure nelle caverne Questa è la sfida che andremo a completare quest'oggi Ne dobbiamo trovare ben sette e vi faccio vedere quali sono i posti in cui potete trovarli Primo posto da visitare ragazzi, Pinnacoli Pendenti Scendiamo sotto questo ponte e già da qui riusciamo a vedere il primo pezzo di puzzle Lo prendiamo subito e siamo già ad uno su sette ragazzi Chissà che puzzle si andrà a formare Da Pinnacoli ragazzi scendiamo a sud, ci dirigiamo a quello che è il ponte di metallo color giallo Qui sotto dovrebbe esserci il secondo pezzo di puzzle Vediamo un pochettino raga, sento rumore Eccolo qui ragazzi Quindi abbiamo visitato Pinnacoli Pendenti sotto questo squarcio Ora ci troviamo qui un po' più a sud sotto questo ponte di metallo Precisamente qui Ripieno la zona Due su sette Ancora non si capisce bene Continuiamo a spostarci verso sud Infatti visiteremo questo terzo ponte sulla sinistra di Approdo Avventurato Qui sotto sarà posto un altro pezzo di puzzle Ve lo faccio vedere subito Ecco qui il nostro terzo pezzo di puzzle ragazzi Rizzoomiamo la zona così capite meglio dove mi trovi Eccola qui Lo prendiamo E siamo a tre su sette Quarta zona da visitare ragazzi Ci siamo spostati ad est di Approdo Avventurato Un po' più sotto di Palmetto Paradisiaco La zona è proprio questa In pratica ci troviamo sotto la strada che porta a Palmetto E prendiamo questo pezzo di puzzle Ci siamo quasi ragazzi Siamo già al quinto pezzo di puzzle E rovina e vicina Mi trovo accanto a quello che è stato il primo scavo sulla mappa Quindi siamo andati a nord di Palmetto Paradisiaco Segnatevi la zona Togliamo anche lo zoom così capite meglio Ed il nostro quinto pezzo è proprio qui Ma cos'è un lama? È il solito lama ragazzi Sesto pezzo ragazzi Mi trovo proprio alla forchetta Ed il coltello Sopra l'handel e tali Prendiamo subito questo pezzo di puzzle Prima che ci killino Ok Sei su sette Settimo e ultimo pezzo di puzzle ragazzi Abbiamo già finito la missione Ma non lo vado a prendere Altrimenti poi non posso mostrarvi Dove poter trovare gli altri pezzi Intanto qui la partita è finita Cinque rimanenti What? Mi trovo proprio sulla destra del vulcano ragazzi Vicino a quello che potrebbe essere un passaggio Per entrare appunto nel vulcano Il puzzle è qui Potremmo completare la missione Ma ragazzi vi faccio vedere prima gli altri posti Ottava zona ragazzi In questo caso bonus Ci troviamo in quella che è la famosissima cava A forma d'ombrello Nord della mappa Alla sinistra di Laguna E un po' più sotto del quartiere Il puzzle sarà proprio qui ragazzi Diventiamo anche amici di tutti gli altri players E abbiamo completato Quello che è il nostro puzzle What? Raga come avete potuto ben vedere per errore Ho preso l'ultimo pezzo di puzzle Comunque dovete sapere che qui ci sarà Un altro pezzetto del puzzle che stiamo cercando Proprio qui alla destra di questo frigorifero Luogo preciso in cui mi trovo ragazzi Grotta dello Yeti A sud ovest della mappa Qui Sinistra di Borgo Allegro Il decimo posto di questo video sarà Proprio al rifugio ritirato Non posso farvi vedere il pezzo di puzzle Ragazzi ma sappiate che sarà proprio qui La caverna è questa qui Io spero di esservi stato d'aiuto ragazzi Se così fosse invito a lasciare un bel like Condividere il video con tutti i vostri amici Fategli vedere dove poter trovare tutti i pezzi del puzzle Se volete potete supportarmi con il mio codice creatore nello shop JKR Martex tutto attaccato Noi ci becchiamo nella prossima video guida Un salutone da Martex See ya brothers Ciao 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 Ciao